Ciao a tutti ragazzi, siamo Rebby e Molly e bentornati in un nuovo fantastico video Allora ragazzi, oggi sarà un video incredibile, voi innanzitutto dovete subito lasciare un mi piace e dovete subito iscrivervi Ed iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, cosa aspettate? Oggi faremo una gara fantastica Faremo una gara fantastica sugli scivoli d'acqua più veloci del mondo, io controllo Rebby, chi vincerà? Molly contro Rebby e chissà chi vincerà? Beh, lo scopriremo adesso, venite con noi Venite, andiamo a divertirci! Ok ragazzi, sfida numero uno, i kamikaze, vedremo chi vincerà Allora scrivete nei commenti chi vince fra Molly oppure Rebby, ok? E se non l'avete fatto ancora lasciate un mi piace ed iscrivetevi Esatto, però non vale molto perché tu sei più pesante di me e quindi sicuro andrei più veloce Allora, nella prima sfida la terrò io la telecamera, poi nella seconda la terrà la Rebby, ok? E vedremo chi sarà più veloce! Sei pronta Rebby? Paura! Guarda questo qua, guarda quanta gigante, oh mio Dio! Fa paurissima! Eh, fai bene ad aver paura! Mi sa che sentirete i miei urli ragazzi! Ok Rebby, sei pronta? Sì! 3, 2, 1, via! Ho vinto! Quando sei partito prima? Non sono partito prima io, che cavolo dici? Ok ragazzi, sfida numero due! Rebby, se ti devo battere un'altra volta, dillo eh! Questa volta però, parti in tempo, non fare fare questa partenza! Andiamo eh! Sono pronti? 3, 2, 1, via! Ah, bellissima! Non vedo niente! Ah! Bellissima! Ma no! Ma mi hai battuto anche questa volta? Eh sì eh! Ma non è giusto! Ok Rebby, ci siamo, un'altra gara! Chi rimane più tempo sul comune! Chi rimane più tempo sul comune! Io vado, ciao! Ciao Rebby! Vai Rebby! Sì! Guarda che sto vincendo io! Grazie! Guarda che sto vincendo io! Non vai così! Ciao! Sei lenta Rebby! Oh mio Dio! Stai perdendo Rebby! Guardi, tu che stai perdendo! Vedi no, ti spingi, non vado, no non spingerla! Devo vincere io, devo vincere io! No Rebby! No! Uh! Allora Rebby! Facciamo andare prima lei perché se no si mette a piangere! No, 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 ti spingi, non fai andare! Vado io allora, ciao! Ciao Rebby! Aiuto! 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 Fortuna che sto salvatando ragazzi! Ma dov'è la Rebby? L'abbiamo aperta! Rebby! Rebby! Eccola! Rebby! No, 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 non può avvincere lei, no! 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 No, no, non può avvincere lei! No, sì, così, no! Lasciami quel piede, maledetta! Ciao! Siamo arrivati Rebby! Eh, mi sa che ho vinto io, eh! Vero? Ho vinto io? Stai perdendo! Ma cosa dici? Lo stanno dicendo tutti i pannini che sto vincendo io, vero? Siamo bloccati... Scusa! Siamo un po' ingombrati... Troppi hamburger abbiamo manzato, mi sa! Scusa, ecco... Ci siamo! È il vincitore, eh! MALLI! Wuh! Rebby, come ti si senta di aver perso? In realtà ho vinto, perché sono rimasto a più tempo e non ho finito... No, 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 ho vinto io! No, 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 ho vinto io! Non mi cadere! Ok, Rebby, parte la sfida qua dentro nel twist, ok? Io contro di te! Esatto! Vediamo un po', allora, io mi butterò lì! E tu dove ti butti? Qui? Vai, io mi butto qui, devi dare il via a te, ok? Ok, andiamo! Ok, Rebby, sempre da tre! Tre, due, uno, viva! È bellissimo, non vedo niente! Quanto si è già arrivato? Wow! È stato bellissimo, però non vedevo niente! Allora, ragazzi, scrivete qua sotto nei commentini chi sta vincendo in questa sfida! Ok, secondo me direi che Molly sta un po'... Ovvio che sto vincendo io, che domanda! Eh, ma non vale, perché io mi sono così, ma da tutte non vedevo più niente lì sopra! Allora, bla bla bla, abbiamo altre sfide adesso, dobbiamo andare a fare altri scivoli, ok Rebby? Ok, quindi mi volete dire che posso ancora pareggiare, vero? Beh, no, perché ho vinto io, ovviamente, però ti puoi provare! No, no, la sfida non è finita! Beh, allora, lo diranno i fan, questo, ok? Ok, ragazzi, siate buoni! Ok, Rebby, sei pronta? Io contro di te in questa sfida, va bene? Questa sfida, adesso la vincerò questa! Si dà il via a lui, così non bari, ok? Eh, tu non devi andare! Ai vostri posti, se non casco! Aspetta, aspetta! No, 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 come via! Come via, come via! Ciao, Rebby! Vince ancora! Hai vinto di nuovo, ma non fare! Ma ti ho umiliato ancora, Rebby! Allora, questa sfida l'ho vinta io, Rebby! Nella prossima, io il mio ciambellone la vinceremo sicuramente! Secondo voi chi sta vincendo per ora, ragazzi? E perché proprio a Molly? Allora, ragazzi, adesso quando ci dai via il nostro manino, partiamo! Rebby, vuoi perdere ancora? Mi sembra più vincere! No, no, questa volta vincerò, sono sicura! Dai, siamo pronti! Via! Ehi, Molly, vai più piano, aspettami! Ok, ragazzi, mi sa che sto perdendo anche questa volta! Dai, Molly! Non c'è gioco, non c'è partita! Eh, ma tu sei troppo pesante, vai giù troppo in fretta! Allora, facciamo l'ultima sfida di questa! Due ne ho vinte io! Se vinsi questa te, vale due! Ho vinto tutto! No, va, ok, hai vinto tutto! Se vinco questo, ho vinto tutto! Se la Rebby vinse questa, vinse tutto, ok? Ok! No, ma secondo me non vinse niente, non ha mai vinto! Ok! Devo dire, Rebby, non è che sei tanto forte nelle gare! Adesso ti faccio vedere io! Allora, ragazzi, adesso partirò un po' prima, perché Molly se no è troppo pesante e vince sempre! Invece adesso partirò un pelo prima e così vincerà tutto! No, ovviamente poi glielo dirò che sono partita prima! Anzi, me lo dirà subito! Sei partita prima! Ok, Rebby, la sfida delle sfide! Sei pronta? Questa hai detto che ho vinto tutto, vero Molly? Tanto sappiamo tutti che vincerà Molly, vero? Sì, sicuramente! Dai, mettiamoci ai nostri posti, forza! Ok, non barare, mi raccomando, eh! Pronti, sei pronto Molly! Pronti, partiamo! No, un attimo, no, 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 che ladra! No! Non male, Rebby! Ha barato, ragazzi! Ha barato! Sei una parola! Sei una parola! È una parola! Uno, due, tre! Sei una parola, Rebby! E come? E come d'accordi? Ho vinto tutto! Ma non è giusto, dai, deve barare sempre! Sfida numero due! Chi rimane più tempo questa volta! Lei ti fa per me, bravissima! Numero uno! Sennò non si è partito! Vincerò io, vero? Vero? Sicuramente! Vinco io! Vai, vai! Non ho mai la spinta! Uuuuuh! E che vinca il migliore! Sto cadendo! Oh! Oh! Aiuto! No! Non farò vincere! Beh, cosa succede? No! Vincerò io questa sfida, ragazzi! Ciao, Molly! Ciao! Ok, è finito il mio tempo qui! Adesso raggiungo Molly! Andiamo ragazzi! Chissà, Molly, dove è arrivato? Chissà, se mi ha aspettato! Molly! Che fina il patto! Io ho fatto un patto e mi hanno tenuto lì a giocare! Mentre qui si è dovuto andare giù! Ciao, ciao, Molly! Vincerò io per Molly! Uuuuuh! Sì! Andiamo più perto della luce! Oh! Non farla vincere! Non farla vincere! Molly! Guarda che mi sto battendo, eh! Uuuuh! È bellissimo questo scivolo! Oh! Stiamo andando un po' veloce! Oh, Roby! Ma che cavolo! Che la ferma! Non farla vincere! No, no, no! Aiuto! Molly! Ok, devo raggiungere Molly! Mi sta battendo! Arrivo, arrivo, arrivo! Che hai visto? Sto vincendo io! Ah! Allora, facciamo così! Chi scende per ultimo vince! Chi scende per... No, no! Chi scende per ultimo vince! No, perché? No! Adesso tutti non giocano me! Uuuuh! Ho vinto! Ma non va! Ti ho fregato! Ti ho fregato! Ma dai, non è giusto! Ma è venuto! Eh, finalmente ho vinto! Non ho mai vinto! Almeno una! Bene, ragazzi! Per oggi è tutto! La nostra sfida ci è conclusa! Voi, mi raccomando, scriveteci qua sotto nei commentini che ha vinto! E perché proprio Molly? Ma non è vero! In alcune ti ho battuto! Devi ammettere! Allora, scrivete voi chi ha vinto! Rebby oppure Molly? Oppure Molly? O Molly? O Molly ancora? Lasciatemi piatti! Iscrivetevi! No, non è vero! Darevi a Molly e tutto e... Ci vediamo domani con un altro fantastico video! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.